Non solo meno decessi e feriti sulle strade, ma anche benefici ambientali tangibili. Questi alcuni dei vantaggi che ha portato all'introduzione del limite di velocità a 30 km orari, un provvedimento molto discusso ma che sta registrando i primi dati incoraggianti. Prima fra tutte, la città di Bologna diventando così la prima grande città 30 in Italia. A confermarlo è il primo studio scientifico a livello europeo, presentato in occasione della seconda edizione di CityFlows, uno studio che si concentra sugli effetti dell'introduzione delle città a 30 km orari. È interessante il dato che rivela come nei centri urbani, che hanno introdotto questo limite, si siano ridotti gli incidenti stradali mediamente del 23%, con una riduzione media del 37% dei decessi e del 38% dei feriti. Dati rincuoranti che fanno tirare un sospiro di sollievo rispetto ai dati diffusi dal rapporto ASAPS, che parlano di come in Italia ogni ora vengano investiti due pedoni e a Roma ne muoia uno ogni settimana. Con la città a 30 si presenta così un ambiente più sicuro, ma anche più sano, perché la ricerca sottolinea come il limite a 30 apporti dei benefici anche all'ambiente, come la diminuzione del 18% delle emissioni e una riduzione dei livelli di inquinamento acustico in media di 2,5 decibel. E le buone notizie riguardano anche uno dei problemi più atavici per i conducenti, ossia il traffico. Con le città a 30 si sta contribuendo ad una riduzione media del 2%, alleviando così la congestione tipica delle code di auto.